Ave a tutti i miei legionari e barbarozzi non iscritti, io sono Alessio PCM e vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale. E oggi siamo nuovamente su Geopolitical Simulator 4 Power and Revolution nella nostra meravigliosa campagna con l'Italia in compagnia di Cesare Borgia, il principe prescelto che governa l'Italia come primo ministro. Eccoci qua, finalmente siamo tornati, scusatemi per la settimana un po' mancata ma non sono riuscito a stare dietro con la registrazione in quanto ero preso con una mia campagna, che sto giocando in singolo, off screen, mettiamola così, e avevo anche parecchio da fare in quanto sto sistemando un po' di cose in casa, un bel po' di cose oserei dire. Allora, quali sono i nostri progetti? Stiamo cercando di entrare nell'ONU e proprio a quel fine adesso andremo a rincontrare il presidente russo e il presidente cinese, infatti ragazzi voglio acquistare, sono andato un po' a cercarmi prima di iniziare il video, i nostri fabbisogni di minerali e naturalmente siamo praticamente con tutti in deficit e se riuscirò, riusciremo a comprare tutti quelli che ci servono dalla Russia e dalla Cina per l'appunto. L'unico forse che non ho preso né la Cina né la Russia perché nessuno dei due ne produce abbastanza è la Bauxite che la produce il Brasile un sacco. E infatti prima di scordarmene adesso vado a cercare di chiedergli un contratto così al limite lo faccio con loro e boom, tanto è solo uno. Questo prezzo però non glielo devo offrire, se no mi sa che rifarei fin troppo contenti ma la nostra economia piangerebbe. Ok, tra l'altro dato che abbiamo anche visto che nella votazione per l'ONU sia Regno Unito che Stati Uniti sono stati neutrali, quindi non troppo contenti della nostra richiesta, anche da loro due comprerò qualcosa e nello specifico da loro comprerò armi. Ebbene sì ragazzi, da loro comprerò carri armati, aerei, caccia e ogni ben di Dio che ogni ottimo generale sognerebbe. Non a scopo offensivo, a scopo difensivo naturalmente. In realtà è strano perché in questo gioco possiamo attaccare quando la nostra costituzione lo vieta, però forse era chiedere troppo a mettere anche quella giunta. E tra l'altro prima di continuare vorrei controllare una cosa per tutti quelli di voi che me lo continuano a chiedere. Ah, ebbene sì, non c'è un ponte che colleghi Messina a Catanzaro. Va bene ragazzi, lo andiamo a fare subito, così la finite di dirmi. Alessio, devi fare il ponte che colleghi Catanzaro a Messina. Alessio, devi fare il ponte che colleghi Catanzano a Messina. Catanzano a Messina. Mamma mia, ho mischiato un po' tutto. Va bene, comunque avete afferrato il concetto, io ho afferrato il concetto che lo devo fare e apprezzo il vostro consiglio. E lo andiamo a fare subito. Autostrada principale da Catanzaro. A Messina, per l'appunto. Eh, non me lo fai fare? No, no, annulla tutto. Ok, devo ancora prendere la mano con queste cose qua direi. Ok, non serve che lo collego qua, basta che la collego alla città, molto semplicemente, senza dover stare a impazzire. Quindi va bene, va bene. Cioè, ma tu dimmi, devo farla separatamente in questo modo stronzo, ma per l'amor del cielo ragazzi. Ok, ci costa mezzo miliardo? No, in realtà anche meno. 5 mesi, dai, la voglio realizzata il più velocemente possibile. Ok, ci costa forse un po' troppo, così. Facciamo che metto 20 persone in meno di 3 mesi. Ok, e in meno di 3 mesi abbiamo questa nuova autostrada di 75 km, più o meno. Oh, guardate che carini che si sono messi. Ragazzi, so spesa nel vuoto, so spesa nel vuoto. Tra l'altro anche uno di voi me l'ha detto. Certo che la mappa di Geopolitical è un po' triste. Sì, ragazzi, effettivamente lo è. E ho dato un'occhiata, dato che me l'avete chiesto, ma non ho trovato enhancement grafici, possiamo dire. Quindi mi dispiace, ragazzi. Speravo, ma no. Tra l'altro, tra l'altro, io adesso non mi ricordo più. Avevo proposto una legge per il culto della personalità. Che non mi ricordo bene su cosa. Penso sulle immagini. No, 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 no. Sulle nostre immagini nei libri, ecco. Che in realtà di Cesare Borgia c'è già, però vabbè. E poi c'è questa qua, della nazionalizzazione. Però è bocciata completamente. Ma non so assolutamente cosa volevo nazionalizzare, dato che non me lo dice. Immagino che sia l'ultima cosa industriale, quindi così posso... Potrei dire che magari sono i sottomarini convenzionali? Non lo so. Facciamo passare, vediamo se magari ce lo dice. Autostrada Messina-Catanzaro inizio dei lavori. Bravissimo, bravissimo, è così che si fa. È così che si fa, facciamo passare questi giorni, così incontriamo la gente che dobbiamo incontrare. Va bene, così non me lo faceva passare. Cos'era quell'aereo? No, niente, era un aereo civile. Mi sono spaventato tantissimo per niente. Spreco di denaro pubblico. Ah, tu sarai uno spreco di denaro pubblico. Perché tu ho assunto. Adesso ti licenzio. No, 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 brasiliani, non trattate. Voglio quello che mi serve, punto e basta. Al limite, al rotondo, to, di 20 tonnellate per eccesso. Perché è meglio abbondare che difficile, però. Non tirate troppo la corda, sennò vi mando al diavolo e la bauzzite se ne va al diavolo anche a lei. Ok, adesso incontriamo il primo ministro russo. Ah, già, è vero che tu non bevi il caffè, dannazione. Non è che la relazione è peggiora per quello. Ok, questa direi che noi gliela diciamo, soprattutto adesso che c'è la votazione molto vicina. Non provo a proporre un'alleanza militare. Cioè, ho trattato di un'aggressione perché abbiamo sempre visto che i risultati sono catastrofici. Gli diciamo che abbiamo il suo paese. Non ci ha mai messo più, ed è chi te lo dice? Cesare Borges, beh sì, effettivamente forse non ce l'ha messo. Ok, allora ragazzi, cosa voglio comparare da loro? Dalla Russia voglio comprare alluminio, argento, diamanti, ebbene sì, producono anche diamanti, non lo sapevo nemmeno io, ferro e oro. Questi sono i cinque minerali, di cui due di lusso, anzi tre, considerando oro, argento e diamanti, che voglio comparare da loro. Sì, ci sono tanti altri paesi, ma ragazzi, ho scelto la Russia proprio in funzione di un miglioramento delle relazioni tra i due paesi. E proprio per questo penso che sia così importante. E anche in vista dei commerci con loro, forse varrebbe la pena fare un altro porto commerciale sull'Adriatico, magari in Puglia. Fatemi pensare, fatemi pensare, ditemi cosa ne pensate, e forse c'è già quello di Bari o Taranto? Adesso non so se mi sto ricordando male della seconda guerra mondiale, o se sono io stupido o se ricordo bene qualcosa. Ok, adesso tratto e poi vedrete i risultati, perché starvi a far vedere la trattativa è inutile come poche cose. Oh, bene ragazzi, siamo riusciti a prendere tutto quello che ci serve e risparmiamo più o meno 600 euro a tonnellata, il che non è male. Quindi siamo a posto con l'alluminio. Poi, oltre questo, abbiamo detto argento. Volume di acquisti, argento, perfetto. Ok, ce l'ho fatta, è stato molto intransigente, ma sono riuscito a comprare a 280.000 a tonnellata l'argento. Il che non è male, considerando che il loro prezzo di vendita solito è più o meno 310. No, il nostro prezzo d'acquisto, scusatemi, più o meno 310. Direi che è eccellente come cifra. Davvero, davvero eccellente. Ok, e quindi riusciamo ad acquistargli anche l'argento. Poi ci tocco i diamanti. Vediamo quanto è il margine di risparmio, ecco. Diamanti, diamanti, diamanti. Non ci sono i diamanti. Ah, perché è segnato diamante. Sì, comunque siamo riusciti a risparmiare un bel po' anche su quello, più o meno 30.000 sull'argento. A tonnellata e non è per niente male. Ok, e anche qua ragazzi ci risparmiamo tantissimo. Sono accordi di alto valore questi, cioè ci costano tanto ma il risparmio a sua volta è davvero altissimo. Ed è questo l'importante. Ci faranno partire, anzi, più che partire ci miglioreranno ulteriormente la nostra industria perché la capacità, la possibilità di ricevere ulteriori materie a un prezzo così basso di sicuro è una cosa ottima. In questo caso, nel caso del ferro, non riesco ad acquistarlo tutto dalla Russia, sfortunatamente. Adesso mi dovrò ricordare che mi serve altro ferro perché, vedete, 27 milioni, anche solo 20, arriviamo a 59, quindi non riescono a venderceli. Possiamo provare dalla Russia ad acquistarne, che so, 15 milioni di unità. Direi che quell'asterisco non c'entra niente. Scusate, non era un asterisco, era un apostrofo. Ok, cominciano le trattative anche qui. Ok, anche qua siamo riusciti a spermiarci davvero tanto. È un buon accordo, anche se dovremmo comunque comprare altro ferro perché non ci basta quello che prendiamo dalla Russia. Chissà, magari riusciremo a prendere anche quello dal Brasile e a migliorare ulteriormente le relazioni anche con loro. Alla fine, ragazzi, anche i membri permanenti dell'ONU vanno a rotazione, quindi può essere importante nel caso non riuscissimo a entrare nell'ONU quest'anno e il Brasile l'anno prossimo fosse uno dei membri. Oddio, in realtà mi sembra che durano due anni. I membri, scusate, non permanenti, i membri provvisori dell'ONU. Però in ogni caso non so se... quando dovrebbero cambiare, ecco. Ok, l'ultima cosa che ci manca è l'oro e ce ne serve un bel po'. 36 tonnellate non è male. Boom! E abbiamo acquistato anche l'oro dai russi. Perfetto, è stato un piacere vederla, dovremmo vederci più spesso, magari un caffè ogni tanto. Ah già, non ti piace? Ok, dai, è stato bellissimo fare affari con te. A presto. A presto. E poi ragazzi lavoreremo ancora un po' sui fondi che diamo ai membri dell'ONU, ai riceventi che fanno parte tra l'altro dei membri permanenti dell'ONU. Mi sono segnato quali hanno votato negativo e quali sono rimasti neutrali. E quelli che non mi sono segnato sono quelli che hanno votato sì, mi piace tantissimo, ti vorrei come membro permanente, solo per allecarti un po' di più il culo, e ricevere più soldi. Va bene, dai, faccio mandare ancora il tempo e domani dovrebbe arrivare il primo ministro russo, scusatemi cinese, la rete cina ha spionaggio industriale fermato. La tecnologia in Cina non è compatibile con i nostri hard disk esterni, la copertura dei nostri uomini è rimasta intatta. Meno male, almeno quello, quella era la cosa davvero importante, perché ragazzi se ci beccavano, se ci beccavano erano davvero piselli da pelare, piselli da pelare tantissimo. Tra l'altro, fammi vedere un po', fammi vedere un po'. Hai già segnato tutti i contratti, caro? Fa vedere, fa vedere, Russia, 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 Mother Russia. Dove sei, Russia? Eccoti qua. Eccoti qua. Eh, direi che sono considerati degli ottimi contratti. Adesso mi considero ottimi quelli d'acquisto, quando vendo qualcosa, fanno sempre schifo. Della serie, sei una merda, non sai vendere, eppure mi sembra di fare degli affaroni. Sì, magari vendo dilazionato, ma perché non c'è nessuno che prenderebbe tutta quella roba della serie, è solo necessità. Vedo che i nostri rapporti con il mondo sembrano migliorati. Peggioreranno quando toglierò i fondi extra che sto dando per diventare membro permanente. Oh, caro Brasile, la devi smettere, la devi smettere. Mai rotto le balle. 500, tra l'altro, è una mia impressione o sto aumentando il consumo nazionale, mano a mano che trattiamo? Facciamo che io ve ne prendo 551.000, non si sa mai. Tra l'altro mi sto continuando a dimenticare quanto vi sto offrendo dai 26.5. Olè, affare concluso. Oh, bene, abbiamo una spia anche in Marocco. Tra l'altro dovremmo avere anche altri agenti internazionali liberi. Fatemi vedere un po'. Ne abbiamo 285 ora, come ora. Gestisci i reti, ne abbiamo 37. Sapete che a me mi piace metterli alla pari, quindi... Non ce n'è nessuno in Russia? Vabbè che non è che mi serva tantissimo. Facciamo che aumentiamo. Di 10, quelli negli Stati Uniti. Di 10, quelli in Cina. Due in Egitto. Poi in Libia ne mettiamo 30. In Tunisia ne mettiamo 30. E gli altri 5 li mettiamo... Li mettiamo in Egitto. Perfetto. Perfetto. E facciamo andare. Ecco qua il primo ministro cinese, Li Jinping. Tu bevevi il caffè? E chi se lo ricorda? E chi se lo ricorda? Vabbè. Amo i tuoi paesaggi. Oh, che palle. Certo che sono dei simpaticoni questi qua. Va bene, va bene. Passiamo subito alle cose siri. Allora, di loro dobbiamo comprare nickel, piombo, rame e zinco. Direi non male. Il ferro... Fatemi controllare se per caso loro lo vendono, ma mi sembra di ricordare che... No, sì lo... Ah no, consumo. Ok. Ne consumano più di quanto ne producono. E non so perché, considerando le acciaierie cinesi. Quindi, ok. Ups, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ok, cominciano le trattative sul nickel. E il nickel, ragazzi, se non ho ricordo male, serve per produrre i cellulari. E in Cina so che hanno forse le riserve più grandi al mondo. E dal punto di vista geopolitico mi sembra di aver sentito che sono tutti molto preoccupati da questa cosa qua. Più che altro perché mi sembra che non serva solo per i cellulari. Cioè, banalmente io ho detto cellulari, ma in generale per gli apparecchi elettronici. Adesso poi io non sono una cima in materia, ecco. Cioè, so qualcosina, ma... Non sono sto gran... Conoscitore. Ok, sono riuscito a comprare il nickel a 20.000 euro per tonnellata. Risparmiamo più o meno 4.000 euro. Quindi, ottimo, ottimo. Ok, adesso ci tocca il piombo. Che non viene neanche... No, niente, stavo per dire una cazzata, ragazzi. Meno male che mi sono fermato. Mi sono fermato, fortunatamente. Dai, vediamo se le trattative vanno a buon fine. Ho visto che la prima volta che ho provato a trattare col nickel mi hanno mandato al diavolo. Quindi stavolta starò più attento. Ok, ragazzi. Scusate se sono andato un attimo qua. Sono dovuto andare un attimo a controllare se la cifra che avevo comprato era sufficiente o avevo esagerato. Perché ho scoperto che non ero al passo nelle trattative. Nel senso che loro avevano alzato la quantità e io non me ne ero accorto. Queste trattative con la cina stanno andando davvero bene. Cioè, in realtà gli accordi che sto stringendo sono ottimi. Però mamma mia che fatica nel farli, dannazione, ragazzi. E adesso ci tocca il rame. Oh, rame che è così bello rubare. Da quanto mi dicono. Io non l'ho mai rubato. Forse. No, davvero, non l'ho mai rubato. Anche se, sinceramente, non capisco perché si dovrebbe rubare il rame. Chissà poi dove cazzo lo smerciano. Bah! Mercato Nero. Ah, tra l'altro, ragazzi, parentesi. Cosa divertente. Ho sentito una voce secondo cui, forse ve l'ho già detto, un quinto, un sesso della nostra economia è sotto banco. Che bello. Ah, viva l'Italia. Meraviglioso. Però, c'è anche, si può anche capire il perché. Non è giustificato, ma si può capire perché. Ok, sono riuscito a stringere l'accordo anche per il rame. Ottimo. Ottimo. E adesso ci manca solo lo zinco, fortunatamente. Fortunatamente ci manca solo lo zinco. 372.000. Non è che... Ne comproduciamo un bel po', ma anche il consumo è elevato. Spero, ragazzi, con queste trattative che sto svolgendo con Russia e Cina di non danneggiare troppo la nostra produzione di questi materiali, naturalmente. Perché è uno degli svantaggi, ok? Io vado a risparmiare comprandola all'esterno, però quindi potrei ridurre la competitività dei nostri produttori, magari. In realtà potrei anche aumentarla, perché cercano di produrla più economicamente, quindi magari innovano e così via. Però, mai dire mai. Mai dire mai. Non voglio dare certezze anche perché, alla fine, i meccanismi secondo cui si muove questo gioco... Ma no, ne ho comprato troppo. Donnazione. Qua mi hanno fregato. Mi hanno fregato perché noi gli sono stato attento e vaffanculo. E vaffanculo. No, dannazione. Sto stronzo, ragazzi. Cioè, mi sono distratto. Vi stavo parlando. E mi hanno fregato. Mi hanno fregato. Se non ci state attenti, qua davvero vi fregano. Va bene. Facciamo che rifaccio di nuovo il contratto con lo zinc e poi tolgo quello più esoso, ecco. Va bene. Adesso lo rifaccio e è buono. E niente, ragazzi. E niente. Non ce l'ho fatta. Per il semplice fatto che... Che steams and families, fortunatamente, supererebbero la loro produzione vendendomene ancora. E quindi niente. Quindi niente. Mi devo beccare il contratto così come è venuto fuori. Dannazione. Dannazione. La regola del patto di stabilità. Benvenuti a tutti. Siamo riuniti per discutere il patto di stabilità. Per definire un limite accettabile per il deficit degli stati membri. Questo deficit è espresso come percentuale del PIL. Prima Ministra, ci piacerebbe avere il vostro parere. Su quale tema vuole discernere il 3% del PIL? Allora, dato che noi siamo migliorati, io lo voglio diminuire. Bisogna diminuirlo, caspita. Uh, fronte patriottico dell'Italia. Ahia. Sono riuscito a farlo. Passata legge diritti umani. Ah, ok. Ok, l'Unione del Summit. 2,97. Wow. Wow. Carissimi brasilioni. Brasilieni. Ancora che continuate a trattare, ma avete rotto le balle. Ragazzi, ditegli qualcosa anche voi, perché mi stanno facendo sfrigolare. Sfrigolare. Ok. E ce l'abbiamo fatta. Legge sul culto della personalità è passato. Oh, che bello. E quale ho fatto esattamente? Ditemi quale ho fatto, perché proprio non me lo ricordo. Comunicazione. Culto della personalità. Immagine nei centri amministrativi. Ok, poi cos'è che c'è? Il ritratto nei libri scolastici. Vediamo un po' se questo me lo fareste. Vediamo. No. No, no, no. No, l'ho fatta passare. Eh, vabbè. Vabbè, al limite me la bocciano. Crescita annuale dell'8,2%. Non male. Con la precedente stima del 5,88. Bono, bono. La disoccupazione è scesa al 4%. Anche questo non è per niente male, ragazzi. La nostra economia sta avendo un boom. Vediamo l'inflazione. Inflazione 0,77. Ah, già, il tasso di interesse io non lo posso controllare perché è gestito la banca centrale. Però in ogni caso direi che mi stanno tenendo l'inflazione abbastanza bassa. Anche perché l'1% non è una cifra così mostruosa, direi. Negoziazione di un accordo. Oh, ancora non accettato. Ma certo che siete proprio dei rompini. Facciamo così. Ragazzi, adesso questo pezzo non ve lo sto tagliando perché... Che cazzo. Ma hanno anche un po' rotto le balle, vai. Questa cifra qua, accontentatevi, è buona. L'unione dei pacifisti. Manifestazione contro la politica del governo. Cosa sto facendo di male? Ditemi. Ah, già, e ragazzi, mi stavo quasi dimenticando di una cosa. Adesso, adesso... Allora, prima di tutto andiamo a controllare un attimo qua gli aiuti. Andiamo a dare ancora qualche piccola donazione. Sono successi di disastri. Qualcuno di voi per caso... Sì, c'è... Ci sono gli Stati Uniti che hanno avuto un disastro. Gli altri non sono membri né permanenti né niente, quindi è andata bene al diavolo. Inviamo degli aiuti d'emergenza dagli Stati Uniti. Vi mando 500 milioni. Bommete. Prego. Piacere mio. Spero di non averne mandati di più. No, ok, 500 milioni. Va più che bene. Nostra donazione. Adesso, ragazzi, mi voglio fare del male. Facciamoci del male. 1,5. Ok. Russia. Stessa cosa. E sono delle percentuali mica piccole, ragazzi, quelle che sto dando. Ok. Poi gli altri due. Allora, quelli neutrali erano Etiopia. A cui quindi diamo mezzo miliardo. Poi la Costa d'Avorio. Poi c'era il Bolivia. Il Bolivia. E la Guinea Equatoriale. Guinea, 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 Guinea. Dove sei? Qua. Ok. E questi qua erano quelli che votavano... Cos'è che votavano? No, questi erano quelli neutri. L'unico che votava no, proprio secco, era il Kuwait. E sinceramente io non so cosa fare. Potrei stringere magari degli accordi con loro, ma non ne varrebbe la pena, ragazzi. Perché non sono neanche membri permanenti, quindi me ne posso sbattere le balle. Cioè, anche se uno vota no, non faccio una piega. Anche perché davvero andare a controllare cosa produce, stringere dei contratti, poi non è ricevente, ma è donatore. Mi siete grati? Bene. Adesso puppatemi la fava e fatemi entrare nei membri permanenti. E russi, per l'amore del cielo, anche tu, anche tu, dannazione, vota di sì. Vota... non dico neanche sì, magari no. Tra l'altro uno di voi mi ha instillato un brutto dubbio nella mente, ovvero che magari anche votando, anche astenendosi, potrebbe essere una sorta di veto. Sarebbe una brutta cosa. In ogni caso, in ogni caso, magari faccio andare il tempo lentamente. E adesso esercito. Io direi di comprare gli altri carri armati. Abbiamo 400... no, 534 carri armati. 534, quindi ne comprerei 76. No, 66 per raggiungere le 600 unità. 66 che magari andiamo a comprare dal Regno Unito, se per caso voi dal Regno Unito vendete armi. E questo, ragazzi, io lo posso andare a controllare... forse lo posso fare direttamente in esercito. Carri armati righe... Carri armati righe... Nazione interessata... Regno Unito... Conferma. Perfetto. Acquisti specifici. Oh, bene. Produzioni nazionali ne producono solo 4. Io ve li comprerei anche tutti. Vediamo se ci rispondono i sì. Comunque non è male. Al limite ne compriamo anche un po'... Che so, dalla Russia. Uh, loro ne producono un bel po'. Loro ne producono davvero un bel po'. Questi, ragazzi, sono dei contratti abbastanza costosi. Però sono più che disposto a farli. Oh, la miseria. Costano gli anni. Aumenta di molto. Con gli interessi, infatti. E sfortunatamente non possiamo pagarli subito. Va bene, allora ne compriamo 4 dal Regno Unito. Da voi ne compro una ventina. Da voi ne compro una ventina. E stessa cosa vale con gli US. Magari ne compriamo una ventina anche da loro. Ah, mi chiede. Da voi costano molto di più che dalla Russia. Da voi ne compro solo 10. Giusto per farvi contenti. Ok, ragazzi. Direi che per questo video ci possiamo stoppare qua. Spero che voi abbiate accettato. Oh, bene. Sì, hanno accettato. Dicevo, spero sinceramente che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ragazzi. Mi raccomando. Non dimenticatevi di lasciare qua sotto un bel like. E se non siete iscritti, siete ancora dei barbarossi. Iscrivetevi qua sotto. È gratis. Non costa niente. E unitevi alla legione. Inoltre, ragazzi, vi invito anche a condividere questo video e la campagna con amici. In modo da far conoscere il mio canale a sempre più persone. Vi invito anche a dare un'altra occhiata alle altre mie campagne presenti sul canale. Che siano su geopolitica, lo su altri strategici. O anche altri giochi, ragazzi. Ho fatto anche delle avventure grafiche. Quindi, anche un po' di varietà c'è sul canale. Date un'occhiata. Tra l'altro, se volete supportarmi, vi invito a farlo qua sotto. Trovate tutti i link. Per l'affiliazione su Kinguin e su Instant Gaming. Due rivenditori di chi... Quindi di chiavi di gioco. Oppure, ci sono qua sotto anche i pezzi del mio PC. Ci sono i link ad Amazon. Ragazzi, quelli sono esattamente i pezzi del mio PC. Se dovessi cambiarli, li cambierei anche là. Se doveste aver bisogno di un pezzo del PC e lo comprate là sotto a quel link, mi fate ricevere una commissione. E la stessa cosa vale per Instant Gaming e Kinguin, ragazzi. Ok. E essenzialmente, ragazzi, mi state supportando indirettamente. Comprando qualcosa che in ogni caso comprereste. Detto questo, io vi saluto e, a tutti i regionari, ci vediamo nel prossimo episodio.